Stasera il miglior chef italiano di Parigi non sta in cucina Si è appena accomodato in sala a Don Vincenzo Gli unici clienti di un ristorante italiano all'estero Vorrei fumare una sigaretta Sono gli italiani Uno sguardo non mente mai, no? A me la carbonata mi piace che la pancetta La pancetta! Senti le bestemmie! Su sto piatto tuo aromano tagli eretta Non ce va né parmigiano né pancetta Il personale del locale è formato da un cameriere in cerca di sottane Vado a fumare, se mi cerca il principale tu non mi vedi da voi Un imbranato uscito dall'alberghiera Ha intenzione di rimanere tutto il tempo all'impalato Mi sembrava brutto andare via E da una donna Forse Messia preferisce il nebbiolo Scelta ardita ma quasi mai sbagliata Non riesco a togliermi dalla mente il suo profumo Ma lo sai perché a me vi piace la carbonara? Perché ogni volta è una corsa contro il tempo E anche il migliore chef italiano a Parigi Può topparla se non rispetta i tempi Guarda che bel casino che ha combinato, va! Non riesci la manata meglio nel sushi bar Lo sai perché mi piace il vino rosso? Perché quando lo assapori Ti lascia sulle labbra un ricordo E quel ricordo ti fa venire la voglia di assaggiarne ancora un sorso E poi un altro, un altro ancora Andiamo a Laura, forse, dai!